Il cantiere tra i più importanti di quelli che ci sono a Roma, che realizzerà l'infrastruttura digitale forse più avanzata al mondo. Noi siamo la prima città al mondo che mette insieme tutte queste potenzialità e realizza una rete a 5G e di Wi-Fi di altissima qualità, di nuova generazione che coprirà tutto il territorio cittadino partendo dalla metropolitana, quindi anche dentro, sotto dove ci sono le linee della metropolitana con tanti punti con Wi-Fi e con una copertura a 5G di nuova generazione su tutto il territorio cittadino, il che consente più velocità della comunicazione, più dati che possono circolare, tante caratteristiche tecniche che consentono applicazioni avanzatissime di città intelligente di passare, quindi non solo ci sarà sempre campo anche quando si è in luoghi affollatissimi, non solo si avrà una capacità di connettività e quindi di scaricare o vedere dati molto più pesanti di quelli che si possono fare oggi con i nostri cellulari, ma si potranno gestire telecamere a 5G per monitorare il territorio, sensori, internet delle cose, fino ad applicazioni modernissime come la telemedicina o anche la guida senza guidatore, tutte applicazioni che hanno bisogno di queste caratteristiche di copertura.